Ma là, siamo sottolineati negli fondi, siamo, siamo, aspetta, lo stiamo, si chiamiamo, questo è un'altra sera. Esco sul balcone allora, passo. Attenzione, attenzione, controllo, passo, fate fuggite, presto, passo, se non sarete mai soli e io sarò sempre pronto a venire in aiuto, passo. Siamo sotto il garage, po' leggi. Bene. Passo. Ma secondo te non è un'altra sera, passo? Non è un'altra sera. Ma tipo, con il minimo della giornata, se ne vi viene, chiedi, parla e vediamo se ne vi passo. Bene, passo. Vi avete visto i altri, ci siamo tutti suoi. Sì, ti sentite ancora in un garage, passo? Credici che i ragionini comunque, passo? Sto, stiamo qua sotto. Sto, stiamo qua sotto. Sto, mi sentite, invece, stiamo qua sotto. Passo e... Ma che vuoi? Ma ti vuoi? Ti puoi che tu mi rispondi? Ti sento di prendere la radio, grazie. Ecco, si parli, basta il giro Sto chiamando me, passo? Sì, sto chiamando te perato, passo E che vuoi, passo? Siamo qui sotto il barco di respirazione, passo Una molto piacere, stai da te e tu essi, passo Siamo qui sotto il barco di respirazione, passo Siamo qui sotto il barco di respirazione, mette se un ruolo che mi più pillars ciao a tutti aiuto papà mi sta sannando in modo fuori mi sta sottotitile mi fa ridere passi vado passi guarda due volte non è che sono passi ho trovato e va nel gioco quasi per risalire passi e va si rinforzi se si rinforzi si rinforzi si rinforzi passi guarda sto proprio a inizio passi 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 si rinforzi si rinforzi si rinforzi si rinforzi si rinforzi fino a quando mi sembra difficile ricorda appena io se la qui si fa bene io pure ho trovato ho trovato la strada e io ho trovato una scuola per il giro e mi guardo che si mi lavoro bene e lui mi muoio e mi fai seguito bene la scuola per te, si è tutto perfetto e io ho fissuto reale, io intanto sto facendo tardano sono introsi nel posto, la donna, sono soli medie sono soli, allora è presente la prima con due leoni Sono tutta quella lì. E infatti io sono veramente un'attività. Sono riuscita a riferire. Quindi sono immagini più difficili. Allora, comunque il mio faccio è sempre qua. Io mi posso intattrattare. Ho avuto un'attività di rifatto. Per solo un po' immaginare. Sì, sono andate a riferire. Mi trovavo lì. Non mi riuscita a riferire. Ho avuto un'attività. Io ho avuto un'attività. E ho avuto un'attività. E ho avuto un'attività. Capisco, ci posso capire. Quando ero con me, mi chiedeva. Allora, l'ho preso il mio passino. Passo. E ma dove vai? Vado qui. Passo. Non stanno le sue pancarei. Passo. 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 Bene, bene. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono una parma. Io ci voglio. Andare a questa ora. Ho finito con il video. Io ci sono un'attività. Ho finito con il video. Poi, ho accontato. E' l'attività. che ho fatto, sono sempre fatta proprio alla cattura, perché mi sono tirata qui, in questo se non ho messo questo, parto parto mi sento per me e questo è questo per me poi parto mi senti? mi senti? mi senti? se mi senti attaccato per me parto si sento che sento tranquillo per farlo e questo è il terzo che si sento al diverso e questo è il terzo e questo è il terzo che mi devo vedere questo di un'onorazione che si spostano molte cose e che c'è una cosa che ti dà che vale che ho appena citato questo è il terzo e 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 questo è il terzo è il terzo ok è il terzo il terzo è il terzo l'allice il terzo l'allice l'allice non lo so Ale perchè questo covid è una cosa che si fa ah vabbè e poi delle cose che sono bloccate per un minuto tra 5 giorni avrò un più effetto non lo so facendo 3 dei regali con le stile con i cappelli faccio faccio sto ben salendo oddio sto risalendo almeno che faccio anzi è una cosa che ho fatto per ritagliare non ho fatto il giro faccio e quindi mi interferenza e quindi a della salita oltre meno che mi da la risposta non so se mi è scoperto non so se mi è scoperto non so se mi è scoperto non si può stare dove si è a quella e oltre meno che mi è scoperto non so se mi è scoperto non so se mi è scoperto non so se mi è scoperto ok faccio ho scoperto una cosa un po' staventata cioè Ale faccio e mi è scoperto io li ho apro e mi è scoperto in un'altra cosa si è scoperto se mi è scoperto non so se mi è scoperto e mi è scoperto ok e qui si vuole il mio spasso al malecano faccio questo che ho afferrato mi faceva un po' più male faccio questo che mi fanno in andare non è che mi fanno non è che mi fanno va più male faccio ci aspetto quando vuoi venire faccio ok ok faccio non si preoccupare secondo me in questo modo in questo modo è veramente carino dove mettiamo dicono il mio spasso ok benissimo in questo modo non mi fanno non mi fanno va bene non mi fanno non mi fanno ma comunque non si chiedi più alla mia destra ho tutto mi fanno il passo e si può se mi trovi questo questo qua se mi vuole non si sente oppure è la nata non lo so non lo so non lo so non lo so mi trovo dove sei basta che trovi c'è una il passo mi fanno i due figli il passo Alex, sei? Passo! Sì, no, ci sono, ci sono! Io, Passo! Mi sono fatto il mio tipo menù e il mio Passo non lo sa più! E' la piccola stessa del ruolo di Passo! Perché tipo quando si senti il minuto che è buio si appare Alice e bisogna vedere e io posso bloccare da sola, Passo! Sì, no, non lo so! Sì, no, non lo so! Vabbè! Vabbè! Sì, siamo qui! Sì, siamo qui! Sì, siamo qui! Sì, siamo qui! Stiamo parlando di tutti insieme! Non ho capito! Sì, ripete! Passo! Sì, siamo qui! Sì, sì, è qui! Sì, siamo qui! Non ho capito! Non ho capito! Alessandro mi senti ancora? Quattro? Sì! Stavo inizi a fare un po' freddo? Sei giudato? Com'è la situazione? Non ho capito! Non ho capito! Ho detto che sono un po' giudato! Ho detto che sono un po' giudato! Ho detto che sono un po' giudato! Magari sono un po' per non cambiarlo! Un po' giudato! Un po' giudato! Ehi, veniamo! Che lato? Qu'ora sono? Un po' di quattro e mezzo! Un po' giudato! Un po' giudato! Un po' giudato! Un po' giudato! Ma fisicamente in questa situazione lo siamo portati in quelle un quadriziale dove si è fatto vedere la cosa abbandonata ma tutte le gas sono inizie! Sì! Questa qua a mattoni quella che mi faceva davanti ma... Nostra diciamo! Sì! Confermo! Anche quella in mattoncini rossi! Davanti a casa Nostra! Davanti al passetto e al momento di capitano! Faccio! Sì! Ma si vede perché insomma una persona che va fuori ed è tutto rosso! Faccio! Certo! Certo! Sì! Sì! La mattina ovviamente se domani ma ovviamente se domani Giuseppe sei in all'idea non vuole perché aspetta metto un po' giudizio! Sì! 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 Non ragioniamo! Questo è un attento che la mattina è un attento se sono un ruotito che attenta magari vabbè uno lo potreste lasciare a un genitore che è stato domani io vi devo dire risalite e non ha un'assimente perfino! Faccio! No! No! La mattina Mi pare il video Mi pare il video rolato mi pare tutto è pieno nлю che ragazze l'occorso è finito Sì! Arrivando c impressed E efendim Prima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.